Oggi salve, questi li facciamo sulla braccia. Li ho puliti sotto l'acqua, ho tolto solo gli interiori, la spina l'ho lasciata. Li bagniamo con un pochino di olio, così non si attaccano sulla griglia. Mettiamo un cucchino di sale di sopra. Ora preparo questo olio aromatizzato con limoni, diciamo samoligio. Prezzemolo, un pezzettino di aglio. E questo l'abbiamo già preparato. Ora vediamo se la braccia è pronta. Quando la braccia è tutta rossa si vede che è pronta. Non sapete cosa vi perdete del profumo che fanno queste salve sulla braccia. Il piatto è pronto. Un pochino di olio, di limoni, di prezzemolo e tutto fatto. Un pochino di olio, di prezzemolo e tutto fatto.